Oggi parliamo di tre idee da ricordare quest'anno per renderlo indimenticabile e soprattutto per realizzare tutti e o quasi i nostri obiettivi. Ma prima ricordati di iscriverti al canale cliccando sul pulsantino rosso che vedi qui sotto per non perderti nulla dei nuovi video che stanno per arrivare. La prima idea è tratta da un libro che ho deciso d'ora in poi mi porterò sempre con me. Si chiama L'ego è il nemico di Ryan Holiday. Ci sono molti passaggi di questo libro a mio avviso illuminanti ma questo in particolare è diventato un vero e proprio tatuaggio per la mia mente. Non importa cosa tu faccia, fallirai e perderai a prescindere dai tuoi sforzi. Qualcuno potrebbe sabotare e disprezzarti e a quel punto, a quel punto la chiave è cambiare la tua definizione di successo. Successo è la serenità che deriva dalla soddisfazione di sapere che hai dato il massimo, che hai fatto il meglio che potevi fare in quel momento. Non so tu che ne pensi ma per me abbracciare questa idea è stata una vera liberazione. Immagina per un momento di lasciare andare ogni aspettativa di quale sarà il risultato, ogni aspettativa di riconoscimento da parte delle persone che ti stanno intorno, semplicemente perché sai che aver fatto il tuo lavoro al meglio è già sufficiente. A quel punto davvero non c'è ostacolo che possa più fermarti. La seconda idea che mi ha reso una vera fan di Ryan Holiday è tratta dal suo secondo libro che si intitola L'ostacolo è la via. Libro peraltro minuscolo, si legge davvero in un paio di giorni e puoi portarlo sempre con te. Questo libro contiene concetti che possono davvero servirci ogni giorno e credimi non esagero. Il tatuaggio per la mente, che ne ho tratti tanti, ma il principale che ho tratto da questo libro si chiama processo. Quando devi fare qualcosa di complesso, qualcosa di davvero impegnativo, non focalizzarti sulla sua complessità come fosse una montagna impossibile da scalare, piuttosto scomponilo in vari step e parti dal primo. Fai solo quello e fallo bene. E solo a quel punto prosegui con il passo successivo. Segui il processo, piuttosto che inseguire il premio finale. Se ci pensi, quest'idea è la naturale prosecuzione del primo tatuaggio che ci siamo detti oggi. Quando smettiamo di preoccuparci della meta finale e di quanto realizzati ci farà sentire raggiungerla, allora possiamo finalmente dedicarci al viaggio. Quello vero, quello fatto di un passo dopo l'altro, dove il solo obiettivo è finire la singola cosa che abbiamo di fronte, la singola cosa che stiamo facendo, sia essa una sessione di palestra o il capitolo di un libro che ci eravamo prefissati di leggere o di scrivere. Seguire il processo ci stimola a proseguire, anche se a piccoli step. E sono proprio quei piccoli passi che ci fanno arrivare dove abbiamo in mente. A quel punto non è più una questione di se ce la faremo, è solo questione di quando. Ricapitolando fino a qui, siamo partiti dall'importanza di lasciare andare ogni aspettativa, concentrandoci solo sulla nostra determinazione a dare e fare il massimo. Poi abbiamo proseguito con l'importanza di abbracciare il processo, senza farci intimidire dalla quantità di cose che dobbiamo fare e senza farci prendere dalla fretta di dover arrivare subito. A questo punto ci serve la capacità di concentrarci su quel processo. Senza questa capacità ci manca la benzina per procedere qualunque sia la meta che intendiamo raggiungere e qualunque sia il nostro livello di determinazione. Ecco perché ultimo libro, ma non meno importante nella lista di oggi, che sono sicura farà tutta la differenza per te quest'anno, si intitola Deep Focus di Cale Newport. Spero davvero che sia presto tradotto in italiano, ma fino a quel momento ecco il tatuaggio per la mente che ti invito ad imprimere bene qui tra le orecchie. Se ogni momento di noia, mentre aspetti un amico, oppure sei in fila, è riempito con un'occhiata al tuo smartphone, è molto probabile che la tua mente sia dipendente dalla distrazione. Significa che anche quando decidessi di concentrarti su qualcosa di importante, senza interruzione, isolandoti da tutto e da tutti, potresti scoprirti non più in grado di farlo. L'impulso di dover rispondere a quel messaggio o a quell'email, nel momento stesso in cui sentiamo o vediamo la notifica, è distruttivo. È comodo, certo, perché è più facile distrarci piuttosto che finire quello che stavamo facendo, soprattutto se è qualcosa di impegnativo e ci fa sentire comunque impegnati. Perché non è che stiamo lì a grattarci la pancia, in mano abbiamo il telefono, giusto? Sbagliato! La nostra capacità di concentrazione è un muscolo che va allenato quotidianamente e se ci abituiamo ad essere costantemente distratti, cercheremo la distrazione come diversivo anche quando dovremmo finire qualcosa di davvero importante, anche quando cerchiamo di auto imporci una certa disciplina. Per riprendere il controllo della nostra capacità di focalizzarci, possiamo fare molte cose, ma una in particolare che viene esposta in questo libro e che possiamo provare fin da subito è la più semplice cosa che possiamo fare e consiste nel resistere durante i momenti di noia ad afferrare il telefono, resistere a quella tentazione di afferrarlo per verificare che non sia accaduto niente di così profondamente importante negli ultimi 5 minuti da quando ce l'avevamo in mano l'ultima volta. Non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi, ma almeno è un inizio e un ottimo inizio. E l'inizio è tutto quello che ci serve per partire, giusto? Ok, come sempre arriva ora il momento più bello del video. Ti aspetto nei commenti qui sotto e naturalmente se hai anche tu un'idea tratta da un libro che stai leggendo e che pensi possa essere molto utile per quest'anno, fatti sentire e condividila qui sotto insieme a tutta la tribù perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia-sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.